Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Sì, ma sembrava abbastanza lontano. Per ora. Dai. Da qui. Ehi, Tess! Arrivo! E' stato fatto a pezzi? Sì. E' morto da poco. Sì, potrebbe. Andiamo via. Un altro male. Oh, cazzo, un clicker. Cosa è successo a me? È così dopo anni di infezione. E quindi sono... C'è chi? Più o meno. Vedono tramite i suoni. Come i pipistrelli, non appena senti dei click, devi nasconderti. Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Occhio alla testa! Fantabolo. Dammi una mano con questa. Joel! Joel! Grazie. Stai bene? Non è niente. Cerchiamo provviste. Che accio? Oh, è stata tocca! Puoi dirlo. Forza, andiamoci all'infretta. Oh, accidenti. Ehi, guarda se c'è modo di passare. Ok. Via libera. Dai, è lì. Ok, sei su. Dai. Ci sei. Ecco qua. Ok. Dai. Andiamo. Ok. Ok. Kliker. Via, via, via. 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 Usciremo sopra l'impalcatura. Fatto. Ellie, stai bene? A parte farmela addosso. Sto bene? No. Andiamo. Dammi un secondo. Eccoci, ragazze. Dai. Dentro. La tromba delle scale... Dobbiamo tornare su. Assurdo. Non guardare in basso. Non scherzare. Non guardare in basso. Non guardare in basso. Non guardare in basso. Stop guardare in basso. Stop guardare in basso. Perché non guardare in basso. Amistagone. Adelle are in basso. Grazie a tutti. Danner. Lo devo controllare. Rimani con la ragazza. Rimani con la ragazza.